Finalmente è stato approvato il decreto salva casa, una riforma che non si era mai vista dall'IPR 30 del 2001, quindi ci sono voluti più di 20 anni per arrivare a questo punto. Vediamo subito di cosa si tratta e gli elementi essenziali li riassumiamo in questo video. Innanzitutto il decreto salva casa, tanto voluto dal ministro Salvini, è intervenuto sul concetto di doppia conformità che era disciplinato dall'articolo 36 del testo unico edilizia di Piero 380. Naturalmente era prevista l'obbligo della doppia conformità, quindi tutte le opere erano sanabili solo se sussisteva questa doppia conformità, ovvero sia la conformità rispetto al quanto realizzato al momento della realizzazione e anche al momento di presentazione dell'istanza rispetto alla normativa edilizia ed urbanistica vigente in queste due epoche, cosa tra l'altro molto difficile e non sempre attuabile perché tante opere erano state realizzate negli anni 80 e quindi di conseguenza la normativa poi era stata modificata a livello urbanistico ed edilizio. Con il nuovo decreto invece si va ad intervenire sulla doppia conformità, non nel caso in cui ci sia l'assenza o la tettuale difformità o delle variazioni essenziali, ma nel caso di parziale difformità degli interventi rispetto al titolo edilizio. In questi casi, dice il decreto, naturalmente spetterà poi al comune stabilire anche delle prescrizioni per gli adeguamenti di sicurezza, anigiene, salubrità e quant'altro e subordinarli, questo è previsto in realtà dal decreto salva casa, a una dichiarazione di un professionista della necessaria esistenza della conformità rispetto alle nuove norme del decreto salva casa. Naturalmente segue anche ed è necessario anche il pagamento di una sanzione pecuniaria che può andare dalle 1000 euro fino alle 30 e 8.000 euro e viene commisurata in base all'aumento di valore dell'immobile grazie all'intervento in sanatoria. Inoltre un altro punto molto interessante è quello delle tolleranze costruttive. Fino a oggi la tolleranza era fino al 2%, adesso vengono suddivise e riparametrate tra tolleranze costruttive e tolleranze esecutive. Per quanto riguarda le tolleranze costruttive si viene a una riparametrazione fino addirittura al 5% per gli immobili che hanno una superficie inferiore utile ai 100 metri quadrati per poi diminuire fino a 500 metri quadrati. Per quanto riguarda invece le tolleranze esecutive vengono ridefinite nei seguenti casi. Minore dimensionamento dell'edificio, mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, irregolarità geometriche, modifiche delle finiture di minima entità, di forma esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria ed errori progettuali corretti in cantiere, errori materiali, di rappresentazione di carattere progettuale delle opere. Lo stato legittimo come definito viene anche messo come alternativo nel caso di legittimazione rispetto all'ultimo intervento quando si va a conseguire l'ultimo titolo relativo all'ultimo intervento edilizio, questa nozione è molto interessante ad esempio per i notai e poi c'è un'altra interessante novità per quanto riguarda il cambio di destinazione d'uso che viene naturalmente previsto senza opere per due alternative quali all'interno, quindi è consentito all'interno della stessa categoria funzionale oppure tra categorie funzionali relative alle categorie residenziali, turistico, ricettiva, produttiva, direzionale, commerciale in immobili situati nei centri storici, nelle zone di trasformazione, espansione edilizia dei comuni, ma la cosa interessante che ci tengo a sottolineare è che non è più previsto l'obbligo di reperimento delle ulteriori aree per servizi di interesse generale come ad esempio lo era per gli standard urbanistici come parcheggi e che poi potevano essere monetizzati in talunni caso, ma questo chiarimento è di fondamentale importanza. E inoltre, ultimo aspetto molto interessante, è che le opere di edilizia libera vengono ampliate nel novero, ovvero sia l'elenco aumenta e vengono espressamente inseriti ad esempio le pompe, l'installazione di pompe di calore fino a 12 kilowatt, non necessitano quindi più di titolo edilizio, basta una semplice comunicazione, la verba che non è altro che quelle famose vetrate panoramiche, ammovibili, i portecati rientrati all'interno dell'edificio oppure tutte quelle opere che servono alla protezione dagli agenti atmosferici oppure dal sole come tende all'esterno, pergole e quant'altro. Naturalmente su questo punto il decreto chiarisce che non possono determinare una creazione di uno spazio stabilmente chiuso e che non possono andare a scalfiggere il decoro dell'edificio. Per tutte queste situazioni e i chiarimenti ulteriori che seguiranno, i commenti sul decreto salva casa vi rinvio a un altro video che sarà fatto sicuramente in seguito, quindi seguitemi. E per quanto riguarda se vi interessa chiarire bene negli aspetti di deformità sanatoria e condono, vi invito naturalmente a leggere il nostro libro edito su Amazon, sugli abusi edilizi e ci vediamo sempre su questo canale.